Musica 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 Che è un biglietto? C'è un nome, noi dobbiamo chiamare il papà Natale No dobbiamo chiamare il papà Natale Lo sa chi l'ha fatto Oh mamma Marco Non c'ho più il numero Apre subito No 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 Questo lo sa mamma da dietro Mamma sono scelta io Ma qua non c'è scritto Questa è la nonna Questa è la nonna Io che mamma Così è gentile Per vedere E lasciarlo Abbiamo prima questo e questo aperto Ah 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 No no E' il mio Ma mia madre Non l'hanno più chiuso O tu l'hai già aperto E' il mio questo A prescindere il mio Pesa E' il mio E' il mio E' il mio Si è rotto Estraiamo Estraiamo Laica vai Scelta 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 Laica Sta scegliendo Non c'è Non c'è Non c'è Il regalo Non la persona Laica 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 E' il mio Ah, il mattone ti ha regalato, è un gioco bellissimo, è un segno giocissimo, da nerdoni. Cos'è il mattone? Non ci fate dire di chi è e per chi è. Il cuorizzo. Ma le carte tutte qui, per favore. Ma Giulia, ti rompi quel fiocco. Non avete preso tutto, non avete preso tutto. Chi li vedeva? Io. Ma qua nel cerchio più largo. Guarda Marti, vi siete Giulia, vi siete essa? Vediamo tutti. Allarga. No, non mi piace. Allora, devi innaffiare. No. Ma io, non mi piace. se non mi piace prima si rimasta avanti ma non si guarda l'uomo e poi le piace tantissimo posso aprire io? no ma sto chiedendo a mia madre posso sapere? guarda come si c'era che è il mio regalo che c'è entra il tuo? dove va? no no lei ha aperto il regalo ma qual è il regalo nostro? si ma se sbagli la scatola poi come te lo posso se lo puoi mangiare dall'oregna un portacucchi che devo un bisogno un portacucchi è bello grande questo si che ne ho un pochetto dell'occhio ma questo si monta si si adesso tocca a me